La tecnologia moderna sta dando una mano alla Lombardia e non si tratta solamente di teleconferenze che già tutti conoscono e utilizzano. Proprio adesso ci sono aziende che non si fermano, che non si arrendono e che si affidano a realtà tecnologiche che possono davvero fare la differenza, quella aumentata e quella virtuale. In questa difficile sfida, a cui le aziende sono messe veramente a dura prova, ci sono alcune imprese che, vista la situazione di emergenza, hanno deciso di dare il loro contributo per facilitare lo smart working. Aziende come il gruppo DSE, che concede alle aziende l'uso gratuito per 30 giorni della piattaforma di assistenza remota Oversense era. Al termine del periodo non sorgerà alcun obbligo costo per l'utilizzatore e la licenza scadrà naturalmente. La nostra soluzione di Oversense Pro dà la possibilità di aprire una sala virtuale e pur restando nella propria sede passeggiare intorno al prodotto indossando un visore senza pc, senza cavi, senza antenne, senza nessun vincolo e visualizzare il prodotto tridimensionale dall'altra parte il cliente sempre utilizzando un visore wifi, quindi senza connettività, senza connessioni cablate, si collega, entra nella stessa sala virtuale e incontra l'avatar del nostro commerciale in modo tale che c'è il cliente, il prodotto, il product manager, il commerciale che può dialogare e passeggiare intorno al proprio prodotto anche se entrambi si trovano magari in nazioni differenti.